ben trovati in questo nuovo video del canale amica borsa in questo video andremo a parlare dell'interesse composto sulle criptomonete sotto un'altra forma sono sempre mike zillo che vi parlo e in questo video voglio andarvi a raccontare proprio come ho evoluto come ci si può evolvere rispetto alla plusvalenza secca per chi non ha seguito insomma il primo video che avevo fatto sulla plusvalenza secca in cui spiegavo l'applicazione base dell'interesse composto trovate qua sotto nella descrizione a questo video il link per andare a vedere l'altro video sulla plusvalenza secca capire quindi molto meglio quello di cui stiamo parlando per farvi un breve riassunto la plusvalenza secca cosa prevedeva vendevamo una quantità di monete al più alta ad un prezzo di valore in bitcoin a un prezzo in bitcoin più alto e con la stessa quantità di bitcoin ricompravamo più basso un numero superiore di queste altcoin l'esempio classico che trovate nel video è proprio una delle mie monete preferite che mi pare proprio se fosse syndicator comunque nessun problema il video lo trovate qua nella descrizione andatevelo a vedere se vi interessa quella è la prima applicazione di interesse composto qua intanto a schermo monitor vi faccio vedere un po l'applicazione la differenza fra l'interesse composto intanto e l'interesse semplice perché tanti si riempiono la bocca parlando di interesse composto poi alla fine non si sa veramente bene che cosa sia questo interesse composto la differenza fra l'interesse semplice e l'interesse composto intanto è la forma della curva la forma della funzione perché l'interesse semplice è una retta l'interesse composto è una curva chiamiamola una curva per semplicità di fatto è un esponenziale perché la variabile per un po per i più dediti al lavoro per più addetti ai lavori la variabile è all'esponente della funzione ecco perché non è una potenza ma è un esponenziale quindi se sentite sentite dire qualcuno che parla di interesse composto che è una funzione potenziale o una funzione a potenza è sbagliato potete tranquillamente correggere se lo dite guardate ho sentito mike che mi diceva che l'interesse composto è una funzione di tipo esponenziale perché la variabile il tempo è all'esponente come state avvenendo a schermo in questo momento allora bando alle ciance perché non credo che con queste digressioni matematiche voi possiate fare molti soldi mi preme in questo video annunciarvi il terzo tipo di plusvalenza allora qualche giorno fa avevo lanciato su Amica Borsa in un articolo che trovate sempre qua in descrizione un contest un piccolo contest insomma qui un po di personale hanno anche partecipato in cui lanciavo la possibilità di fare una call gratuita con me in se qualcuno avesse indovinato il terzo il nome di questo terzo tipo di plusvalenza riportando correttamente i primi due vi confermo che l'avrete già capito il primo tipo di plusvalenza si chiama plusvalenza secca il secondo tipo che è un tipo di plusvalenza di modalità d'accumulo di monete che vado a spiegare molto bene nel corso primo assaggio si chiama plusvalenza sott'acqua il terzo tipo per il motivo che vedrete fra poco il terzo tipo di plusvalenza ho scelto di chiamarlo plusvalenza aurea plusvalenza aurea perché perché a differenza della plusvalenza secca in questa plusvalenza non ci andremo a focalizzare sull'accumulo di altcoin ma ci andremo a focalizzare sull'accumulo di bitcoin ecco perché definendo noi bitcoin l'oro digitale questo terzo tipo di plusvalenza assume facilmente nome di plusvalenza aurea andiamo adesso un attimo a sbiorciare qualche applicazione perché come vi ho anticipato insomma ormai da circa un mese che la applico quindi se mentre faccio il video siamo circa metà settembre è da circa inizio agosto che sto iniziando ad applicare questo tipo di plusvalenza sta dando soddisfazione direi di sì sempre in questo articolo di amica borsa vedete proprio il trend anche del conto come cosa ha combinato il conto insomma decisamente salendo decisamente un trend positivo grazie all'applicazione di questo terzo tipo di plusvalenza della plusvalenza aurea e quindi mi sentivo in dovere quasi di condividerlo con voi allora andiamo subito a vedere a schermo di cosa stiamo parlando ovviamente andiamo sulla order history questa qua la mia order history del conto ho già selezionato la per cnd quindi vado a prendere tutte le monete che in pratica fanno tutte le combinazioni tutti i trade che fanno riferimento a cnd partiamo dal basso partiamo dal 10 di settembre in pratica tutta questa cronologia vedete risale fra il 10 e il 12 vi ricordo come spiegavo nel corso primo assaggio questa è la order history quindi la data che vedete nella order history è la data in cui avete piazzato l'ordine nel book quindi di fatto quando avete prenotato l'ordine non quando è stato eseguito l'ordine l'esecuzione dell'ordine la data di esecuzione dell'ordine viene riportata nella trade history oppure semplicemente aprendo come adesso ne ho a vedere anche gli orderi all'interno della order history quindi il primo ordine che vediamo è stato fatto è stato impostato insomma il 10 di settembre alle 10 e 20 di mattina ho fatto una vendita di 166.882 monete a quota 65 satoshi non spaventatevi per il numero di monete perché saranno sempre due numeri di monete che gireranno uno 166.882 e l'altro 100.000 quindi vediamo che la vendita a 65 è andata a buon fine e ho riacquistato questa volta lo stesso numero di monete a quota 63 qual è la differenza quindi rispetto alla plusvalenza secca con la plusvalenza secca se avessi venduto a 65 una volta che avessi ricomprato a 63 avrei utilizzato tutto il bitcoin accumulato a quota 65 dalla vendita di syndicator per ricomprare più monete a quota 63 in questo caso ci focalizziamo invece che sul comprare più syndicator ci focalizziamo sull'acquistare e sul mantenere sull'accumulare bitcoin ecco che nella colonna total vedete che il valore alla vendita di 65 era di circa 108 diciamo 108 millesimi di bitcoin quindi 0,108 eccetera il prezzo di riacquisto il controvalore di bitcoin di riacquisto delle stesse monete è di 0,105 in pratica in tre ore perché alla fine l'ordine è stato impostato alle 10 e 20 di mattina chiuso alle 4 di pomeriggio quindi scusate l'ore sono circa 6 in circa 6 ore ho accumulato 30 dollari circa alla valutazione attuale di bitcoin quindi 3 millesimi come vedete qua dagli ordini 3 millesimi di bitcoin cosa è successo poi beh circa la stessa cosa nell'operazione successiva ho venduto a 66 ho ricomprato a 64 con un controvalore di circa 11 centesimi di bitcoin ricomprando a circa 10,7 centesimi di bitcoin quindi anche qua ho accumulato circa 3 millesimi di bitcoin proseguiamo la plusvalenza aurea successiva è la vendita a 73 satoshi di syndicator di 100.000 syndicator quindi un controvalore totale di 73 millesimi di bitcoin ricomprando esattamente le stesse monete a 68 millesimi di bitcoin anche qua vedete 100.000 syndicator non so se avete capito però l'obiettivo di questa plusvalenza aurea prevede di accumulare bitcoin quindi se noi facciamo trading per ovviamente generarci un profitto alla fine riusciamo a vivere anche con il trading sulle criptomonete il vantaggio quale deve essere per noi deve essere di riuscire ad accumulare o dollari perché comunque con i dollari che ci paghiamo da vivere dollari o euro insomma tra valute fiat tradizionali o in alternativa almeno accumulare bitcoin accumulare altcoin quando è che può essere interessante quando è che può essere intelligente accumulare altcoin può essere intelligente in momenti di mercato molto molto spasmodici quando cioè il mercato si sta muovendo in maniera molto repentina quindi se il mercato si muove in maniera molto repentina abbiamo la possibilità di sfruttare l'interesse composto sulla altcoin stessa quindi continuare ad accumulare altcoin per a un certo punto comunque sganciarle tutte e chiudere il profitto tenendocelo in bitcoin quindi accumulare magari altcoin sfruttando l'interesse composto durante fasi concitate di mercato per poi andare a chiudere tutto l'accumulo che abbiamo fatto magari attraverso plusvalenze secche con una plusvalenza aurea ricomprando alla fine di tutto il ciclo alla fine di tutto il movimento repentino di questa altcoin ricomprando solo le monete queste altcoin questo tipo di altcoin che avevamo all'inizio chiudendo dunque la plusvalenza con lo stesso numero di altcoin di questa altcoin che avevamo all'inizio e chiudendo quindi oltre allo stesso numero di altcoin con un accumulo di bitcoin in questo modo il vantaggio è che ci stiamo proteggendo perché se il mercato poi dovesse ad esempio di bitcoin salire moltissimo sappiamo che ultimamente le altcoin tendono a scendere per un semplice motivo di dominance quindi le persone la maggior parte dei trader della domenica vedono bitcoin impennare quindi smobilitano tutto il capitale che hanno in altcoin per comprare bitcoin ecco perché bitcoin continua a salire durante queste bull run o micro bull run mentre le altcoin continuano a scendere le altcoin scenderanno molto di più rispetto agli incrementi percentuali di bitcoin perché perché le altcoin hanno delle capitalizzazioni molto più basse rispetto a bitcoin quindi smobilitare il proprio capitale in un mercato ad esempio se anch'io smobilitassi alcuni alcuni capitali insomma alcuni volumi che posseggo di alcuni altcoin certe volte potrei generare anch'io un piccolo spike nel mercato perché comunque di certe altcoin continuo ad accumularne perché ho fiducia e soprattutto perché mi danno delle buone oscillazioni su scala giornaliera su base giornaliera detto questo la plusvalenza aurea è questa non non è così difficile da applicarsi è semplicemente esattamente uguale la plusvalenza secca cambia solo il numero di monete con cui rientriamo a mercato il vantaggio è che ci accumuliamo bitcoin e francamente penso che piuttosto che accumulare cindicator per quanto mi piace cindicator come altcoin francamente preferisco accumulare bitcoin perché bitcoin è un progetto che esiste da più tempo ha una lungimiranza e la tecnologia decisamente decisamente più innovativa rispetto a mare cindicator che comunque rappresenta pur sempre un'azienda e quando ora ad esempio l'azienda cindicator dovesse chiudere baracca burattini io se avessi accumulato tantissimi cindicator mi troverei non dico con il sedere per terra ma comunque in una situazione non proprio piacevole se invece grazie alla plusvalenza aurea sfrutto cindicator per accumulare bitcoin ecco che il gioco è fatto quindi ecco svelata la plusvalenza aurea ahimè nessuno ha vinto il contest sul nome di questa terza tipo di plusvalenza non c'è nessun problema fra un po inizieremo anche con gli airdrop e con altri contest a pagamento perché metterò in palio anche delle criptomonete proprio per pagare per ricompensare le persone che daranno magari più velocemente o più accuratamente alcune risposte che andrò a chiedere per questo video è tutto spero di essere stato chiaro ma soprattutto che vi sia che abbiate percepito la potenzialità di questo terzo tipo di plusvalenza e soprattutto il fatto che ve l'abbia messo a disposizione in maniera gratuita perché non mi pare che molte altre persone nel panorama italiano al momento abbiano messo a disposizione questo tipo di plusvalenza creando e avendo creato prima le basi attraverso la plusvalenza secca quindi insomma spero che appreziate questo video se vi piace il video se vi piace la spiegazione lasciate un commento qua sotto dando un feedback di cosa pensate di questo di questo video lasciate un like al video ovviamente per farmi capire che vi è piaciuto almeno così da incentivarmi anche a creare altri contenuti detto questo è tutto qua dietro vedete che ho inserito un altro quadro ma lo andremo a presentare in uno dei prossimi video in cui vi spiego un altro contest in un'altra scusate un'altra competizione che ho vinto su binance ma è presto per parlarne ci si vede quindi alla prossima puntata ciao a tutti